Esatto, amici. Peter Parker. È di fatto Peter Parker. Senta, non ho ucciso Misterio. Sono stati... Zingali! Non credo. Agente Schrader. Abbiamo alzato le mani anche stavolta? Peter Parker. È di fatto... Quando Misterio ha rivelato la mia identità, l'ho ucciso. Potresti fare in modo che non sia mai accaduto? Sì, ce l'hai un computer? Non lanciare quell'incantissimo. È pericoloso. No. L'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Peter Parker. Aspetta, non alterare l'incantesimo. Oh mio Dio. Non lanciare quell'incantesimo. Smetti di parlare. Ma che ne giocano? Di un attimo! Abbiamo alterato la stabilità dello spazio-tempo. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Arriaga, buccio! Che cos'è? Che stai facendo? Parker. Attento a... Thor, figlio di Odin. Smettila. Non ti permetterò di gettare via i tuoi soldi. Così. Così. Qualcetto. Come il sbagliere a la buccio. Per direi. Odin. Così. Così.